Anticipazioni Tempesta d'amore Giovedì 11 giugno 2020 Bella scrive una poesia d'amore per Franzi per conto di Kim. La ragazza però ferita e delusa, dice al Moser che il De Gein dovrebbe prima o poi farsene una ragione, deve lasciarla sola, tra loro è finita. Franzi poi nervosa getta via la poesia. Subito dopo però la ragazza si pente del gesto. Quindi la legge e si commuove. Lui si affronta duramente Annabelle chiedendole di stare alla larga da Paul. La Sullivan chiede a Christoph di lanciare un avvertimento alla cameriera. L'uomo si rifiuta ma la figliastra lo ricatta. Così stringendo i denti il Salfid chiede a Anna Erlinger di scutarsi con Annabelle. Dirk poi incontra quest'ultima e le fa capire che anche lui vuole vendicarsi del cognato, ma allo stesso tempo ha in mente un secondo obiettivo, riconquistare Linda. La donna adesso si è rifatta a una nuova vita a Biclaim ed è felice con il suo nuovo amore, André. Dirk è pronta a tutto per minare alla serenità tra i due. Il desiderio di Harry di sposarsi in chiesa fa precipitare Jessica in crisi. La donna teme di non meritarselo a causa di tutti gli sbagli che ha commesso in passato. Si sente una peccatrice. Pertanto si rivolge ad Alphonse e Hildegard ai quali chiede aiuto.